Vi racconto una storia nuova Mamma farfalla depone le uova Nasce poi un bel bruchetto Tutto verde e piccoletto Tante foglie inizia a mangiare Grande, grande vuol diventare Ecco qui, è già cresciuto Grande, grosso e un po' paffuto Ma è un po' fanatichello e vuole essere più bello Inizia allora la trasformazione del simpatico brucone Prima bozzolo, poi crisalide Vedo poi un'aletta gialla Ora è nata una bellissima farfalla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti